Le loro responsabilità è il segretario Udc Cesa. Siamo di fronte a una guerra tra poveri, diciamo no a qualsiasi vergognosa strumentalizzazione sulla pelle delle persone. Non possiamo far finta di non vedere la realtà di Tor Sapienza, dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine del mese e dove manca lavoro. Serve un'azione di responsabilità, mettersi intorno a un tavolo e riflettere per capire come prevenire l'esplosione di tensioni sociali come questa.